Cisco Secure Points fornisce una serie di funzionalità avanzate che sono di grande aiuto nelle fasi di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce. Per esempio la funzionalità di Exploit Prevention previene attacchi di tipo Memory Injection, la funzionalità Malicious Activity Protection monitora il sistema e rileva processi dal comportamento malevolo come il ransomware. Ma non ci fermiamo qui, stiamo parlando di decine di funzionalità avanzate. Sfruttarle adeguatamente ti porterà ad una riduzione del tempo di rilevamento e a un aumento della visibilità sui tuoi endpoints. Se vuoi saperne di più, registrati alla prossima sessione Cisco Chiedi agli esperti. Ti aspettiamo.